14 ispettori della IEA guidati dal scrittorio generale Raffael Mariano Grossi e incaricati di monitorare la situazione presso la centrale nucleare più grande d'Europa sono arrivati nella città di Zaporizia. Mentre Mosca accoglie con favore l'idea che gli esperti della IEA possano rimanere nella centrale nucleare su base permanente, Kiev chiede la smilitarizzazione dell'aria. La Germania è a favore di un ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina, se ne è parlato a margine della riunione informale dei capi delle diplomazie dei 27 a Praga, tra l'ipotesi e l'introduzione di un tetto massimo al prezzo del petrolio. Grazie a tutti.